Giovedì 18 aprile, buongiorno e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. In apertura parliamo di politica. Il centrodestra in Molise, in particolare a Campobasso, avrebbe chiuso su Aldo De Benedittis. Ma manca ancora l'ok da parte della Lega e l'ufficialità. Intanto ieri in una conferenza stampa l'esponente dei popolari, Salvatore Colagiovanni, ha lanciato l'ultimatum al centrodestra. Se nelle prossime ore non decidete il nome del candidato, sindaco di Campobasso, nelle nostre strade si divideranno il servizio di Fabiana Abbazia. Tempo scaduto per Salvatore Colagiovanni che lancia l'ultimatum al centrodestra, ormai da mesi in balia di un tira e molla sul nome del candidato sindaco per Campobasso che non riesce ancora a designare una situazione inaccettabile che sta mettendo in difficoltà e in imbarazzo tutti coloro che vogliono correre per la carica di consigliere comunale. All'interno della coalizione per me non esistono nemici, ma la campagna elettorale facciamola con la voglia di vincere e soprattutto con un programma serio su cui ora si rischia di non avere più tempo, dice Colagiovanni. Posso anche sottostare al fatto che il mio nome non vada bene, ma il centrodestra mi dica il perché. Ancora rimarca l'esponente dei Popolari per l'Italia che rivendica le sue tre liste sul tavolo. Al suo fianco siedono infatti Maurizio Mitro, a cui fa capo la lista del Movimento Civico 2024, e Paolo Mancini del nuovo PSI. Io resto a disposizione e se a brevissimo giro di posta non ci saranno novità, prenderà il via la mia campagna elettorale. E' pur vero che il candidato sindaco è l'arma vincente, lo abbiamo visto anche in altre partite politiche che abbiamo disputato negli anni passati. Logico che se si arriva al 17 aprile ancora sento che c'è volontà di voler far sindesi su un candidato e nessuno parla di lista, il problema me lo pongo, perché le liste si costruiscono attorno al candidato sindaco. Infine su un possibile passo di lato, l'esponente dei Popolari rimarca. Ma i passi di lato si fanno quando c'è una sintesi e c'è un progetto ben descritto, non si fanno i passi di lato perché sia inferiori o secondari a qualcuno. Io penso di aver dimostrato in qualsiasi competizione elettorale di avere il consenso popolare. Penso che mi smetteva in dubbio quando dovevo amministrare la città, penso di aver fatto l'assessualità al commercio che ancora oggi mi viene riconosciuto. facciamo il passo di lato a chi? Ho detto su alcuni candidati che ero disponibile a trattare a fare un passo di lato e non me li fate ricordare che lo diciamo tutti i giorni, oggi è chi devo aspettare per fare il passo di lato? Perché io forse non vado bene, ne prendo atto. Che non vado bene come sindaco vuol dire che non vado bene alla coalizione a sto punto. E si è chiusa con un grande successo per le cantine abruzzesi e con l'esordio dello sfumante Trabocco la 56esima edizione del Vinitali di Verona. L'assessore Emanuele Imprudente annuncia l'avvio di una nuova fase per le aziende. Valentina Ciarlante. Cala il sipario sulla 56esima edizione del Vinitali, il Salone Internazionale del Vino e dei Distillati di Verona che quest'anno ha riservato una grande vetrina all'Abruzzo. La regione infatti ha allestito uno stand da 1500 metri quadrati ospitando 50 cantine con la collaborazione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo e ha presentato nuovi prodotti che sono andati ad affiancarsi agli storici Montepulciano, un maste intramontabile, il Cerasuolo, il Rosè che piace sempre di più. Nello spazio abruzzese hanno fatto tappa la Premier Giorgia Meloni, il Ministro Lollo Brigida, il Presidente della Camera Fontana, tutti inebriati dai vini di qualità, compreso il Trabocco spumante d'Abruzzo Doc, le bollicine col mare dentro, al debutto al Vinitali. Il marchio collettivo Trabocco mira a valorizzare gli spumanti prodotti con metodo italiano da uve autoctone quali Passerina, Pecorino, Trebbiano, Coccocciola e Montepulciano. Questa è la spiegazione di Alessandro Nicodemi, Presidente del Consorzio Vini d'Abruzzo, presente a Verona insieme a un entusiasta Emanuele Imprudente. Il Vicepresidente della Giunta Regionale ha annunciato i prossimi passi in questo settore che compirà la Regione. Parte una nuova fase, parte una nuova fase nella consapevolezza di ciò che abbiamo detto, convinti che in maniera unitaria il mondo del vino, che spesso è contraddistinto da tante posizioni diverse, deve lavorare in maniera sinergica, in maniera di coordinamento. Come Regione Abruzzo saremo a disposizione, saremo in maniera importante al loro fianco. Passiamo ora alla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali, partendo come al solito da primo piano Molise, che apre, come abbiamo visto anche in precedenza, con il servizio, con le lezioni di Campobasso. Il centrodestra sceglie Aldo De Benedittis. Il travagliato parto al termine di un incontro coordinato dal Presidente Roberti, tutti d'accordo, tranne la Lega. Marone attende l'ok della Segreteria Nazionale. Con la Giovanni Medita, quando la coalizione mi comunicherà ufficialmente il nome, deciderò cosa fare. Restando in tema politica, da Termoli, Gio Mileti, in bilico, il Partito Democratico media pure a Roma. E in pancia, se l'Unimol funziona, attrae studenti, noi partner contro lo spopolamento. Il Rettore Luca Brunese illustra i risultati raggiunti e le novità per il prossimo anno accademico. L'Agenzia Nazionale di Valuazione promuove l'Ateneo a pieni voti. E poi, neve ma non solo, campitello verso la destagionalizzazione. Il Sindaco Leggeri parla degli interventi realizzati e di quelli in cantiere. Proseguendo con le notizie di Spalla, da Termoli, Vertenza Vibac, il Senatore della Porta sposta il caso al Ministero. Poi si parla di PNRR, Manager Sanitari, dubbi sui requisiti dei partecipanti al corso. È bufera. Ai domiciliari per detenzione d'arma, beccato per strada guglionesi, arrestato di nuovo. Campobasso, Corfus Domini, Subsonica, Enzo Abitabile e Bundabash. Poi dalla piana di Venafro inquinata, Colagem ribadisce, gli studi escludono le nostre responsabilità, valori emissivi molto al di sotto della norma. Il punto, oggi a firma di Giancarlo Pozzo, a Sparta non rideremo, ma smetteremo di piangere. E poi le notizie di sport, Lupi in prevendita a ritmo alto, pienone in vista per la partita contro il notaresco di domenica, tornano Consuelos e Cirincione. Isernia, il direttore generale palmeggiano, la Serie D è molto vicina, il club, sottolinea, abbiamo mantenuto gli impegni, campionati universitari, Barrea, nuovo selezionatore del Cus Molise, per quel che riguarda la squadra di calcio a 11. E passiamo alla prima pagina del centro, che apre con la cronaca, ristoratore di 55 anni trovato morto, tragedia a Salle, Palombaro era il titolare del locale, le maschere a Pescara. Proseguiamo con la cronaca, Melania, il dilitto 13 anni dopo, parla il fratello, da quel giorno strage senza fine, il femminicidio avvenuto a Teramo, Parolisi, condannato a 20 anni. La nuova inchiesta, proiettili all'ex comandante della stradale, 11 agenti nei guai. Poi la ferrovia adriatica, lavori finiti, da domani stop ai disagi. E ancora vediamo la notizia che riguarda la movida violenta, pescaresi indagati, in 5 nei guai per le aggressioni, con il tirapugni a Chietiscaro e Fossa Cesia. Scuole, stop all'accorpamento, dopo la protesta arriva la deroga eccezionale della regione, Caramanico, trovata la soluzione, sottolinea il centro. Sotto la testata, mare, primita e starta, solo 4 punti in rosso, lungo l'intera costa, Abruzzo promosso dopo i prelieri. Sfunta l'atto che dà ragione al medico che fa l'assessore, il caso Quaglieri, e il parco della Maiella sceglie i 10 esperti dell'UNESCO, le nomine in Abruzzo. Per finire, inchiesta su Retes, i 100 anni della Coppa Acerbo, stasera in TV e calcio Serie C, talento e gol, Tuniov l'arma in più del Pescara. E poi vediamo il messaggero Abruzzo, la prima pagina, anche qui la cronaca, aiuto, papà picchia la mamma, Avezzano, ragazzo di 14 anni, si rifugia sul balcone, chiama la polizia, l'uomo è stato arrestato, dopo aver tentato di separare i genitori, ha rischiato le coltellate, la donna medicata per le ferite. Dall'Aquila, abusi sessuali sulla figlia minore, scatta il divieto di avvicinamento. Ancora cronaca da Lanciano, il pestaggio di Pasquetta a Fossacesia, identificati e denunciati cinque giovanissimi. Operazione Sicurezza, il questore, Blinda Pescara. E poi c'è l'allarme incendi, Teramo e Isola, Roghi Dolosi, ascoltati i primi testimoni, fuoco appiccato con un accendino. Notizia che riguarda la scuola, niente pluriclassi, arriva la deroga per i centri montani, scampato pericolo a Castelvecchio, su Bequo e Caramanico, Terne, ma la misura è provvisoria. Da Prato la Peligna, indagò sugli agenti, dirigente post strada, riceve un proiettile. proiettile. La Pescara, altri indagati per i blitz, no vax. Poi vediamo le notizie sotto alla testata, dall'Aquila a più di mille anni, manifesteggia 70 serie di eventi per il Mammut. Chieti, tegola sul basket dopo la salvezza, arriva il rischio del fallimento. E poi per la Serie C, Pescara, così mister Cascione, ha toccato le corde giuste. Il Delfino è tornato a essere squadra, ma nei play-off servirà un altro step. L'allenatore ha raccolto i cocci e li ha rimesse a posto con pragmatismo. Passiamo ora alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo, come di consueto, dalla prima pagina del Corriere della Sera. Si apre con la guerra, purtroppo, i venti di guerra, spinta per le sanzioni all'Iran. Dagli USA all'Unione Europea studiamo le misure. Teheran, se attaccati vedrete un'arma mai usata, la minaccia. Netanyahu prepara la controoffensiva, ma evitando l'escalation. Tajani sia soldati italiani in un futuro Stato palestinese. La Russia vuole Kiev neutrale, intervista Suslov. Poi Mattarella, richiamo al Consiglio Superiore di Magistratura, non cercate il consenso. Di spalla, Draghi, un piano per l'Europa, cambi radicali. L'ex Premier parla di unione e delle regole da seguire. Per la cronaca, Erba, le ultime carte di Olindo e Rosa. Illegali, anomalie e 243 errori. Si punta, come sapete, alla riapertura del processo. Canfora, appunto, a processo. Chiaramente questo è un altro argomento per le frasi su Meloni. Sono vecchio, ma lucido. Passiamo alla prima pagina della Repubblica. La Repubblica che apre con la politica. Lega il mercato dei voti. Corruzione, favori mafia. Un'inchiesta travolge San Martino, il vice governatore della Sicilia, passato con Salvini. Sale la tensione nel carroccio per i troppi inquisiti al sud. È fallita la strategia meridionalista del segretario. La cena segreta tra Renzi e Miciche per la grazia a Dell'Utri. E poi con Iatollà l'unica scelta è contrattaccare. Nella striscia della guerra ci sarà anche dopo la pace. Gli interventi che riguardano appunto la crisi in Medio Oriente. Alluvione nel deserto. Dubai e Oman sott'acqua. Emergenza climatica. Poi si parla di diritti. Aborto, scontro Roma-Madrid. Meloni, non dateci lezioni. Televisione, sorpasso di Mediaset e fuga delle star. La Rai in affanno, dice la Repubblica. Il messaggero. Andiamo alla prima pagina del quotidiano romano. Iran, il G7, prepara le sanzioni. Il fronte occidentale è compatto, misure pesanti per chi venderà droni e razzi a Teheran. Letta avverte l'Europa. dipendiamo dalle armi extra UE all'80%. Ipotesi bond per la difesa. E non si ferma la protesta anti-israeliana, sapienza anarchici tra gli studenti, nel presidio anche alcuni professori. Voto di scambio. Indagato San Martino è il re delle preferenze della Sicilia. Corruzione, sospeso, dice il messaggero, il vice governatore. stretta super bonus affidati ai vigili controlli sui lavori. In arrivo gli emendamenti per una deroga ai territori colpiti dal sisma in Emilia e Ischia. Pioggia indotta, Dubai sott'acqua, alluvione nel deserto e 18 morti dopo gli interventi chimici sulle nubi. Si parla anche di sport, olimpico da record per la Roma europea che sfida il Milan. Stasera i quarti di finale di Europa League, il ritorno dopo la vittoria della Roma all'andata. L'annuncio shock di Sofì Quincella o un tumore grave al cervello. La scrittrice inglese ha annunciato questo suo tumore. Passiamo al tempo, la prima pagina del tempo che apre con questa grande foto. Brigate antisemite, l'Ateneo in fiamma e altro che studenti pacifici alla sapienza ex brigatisti, anarchici e militanti pro Hamas dice il tempo. Ecco chi ha ferito i 27 poliziotti e inneggia all'odio contro gli ebrei. Di spalla si parla di politica, la riforma e il premierato i comitati e l'ombra del referendum pera, ricordate Renzi. Rai, bilancio ok ma è sciopero di 5 giorni, sindacati in rivolta, Draghi e Colle mi chiamò ma dopo 10 minuti. Questa è l'anticipazione del libro di Salvini. Dopo il tempo diamo un'occhiata alla prima pagina del Fatto Quotidiano che apre con la guerra che poteva finire in un mese. Questo è il titolo dell'apertura Pace e Sabotata da Boggio, USA e UE. Foreign Affairs intesa a marzo 2022 su Kiev neutrale e Europa ed europea. Tutte le carte inedite, chi negoziava conferma un'intesa Putin-Zelevsky sul ritiro russo e il rinvio sulla Crimea. Polearmi e il gelonato, il blitz di Johnson e il caso Buccia. Sicilia, blitz in casa Lega, anche qui si parla di San Martino, il campione di preferenze che è il vice di Schifani e adesso è stato fatto fuori per l'inchiesta. Sant'Anchea, aiuto da Angelucci, SRL, bollita in borsa, il ruolo della Tosinvest. Agende dell'Utri vedeva Berlusconi più di tre volte a settimana, nuove carte della DIA. Diamo ora uno sguardo alla prima pagina del manifesto. Come al solito una grande foto d'impatto, Pol Fiction dice il manifesto, video e testimoni raccontano di un'aggressione a freddo della polizia alla sapienza, ma politica e media dipingono gli scontri di Roma come una mezza insurrezione, perché chi dissente è già un criminale, dice il manifesto. A scuola di ordine e disciplina, stretta sul vuoto in condotta, passa in senato il disegno di legge Valditara. E poi, striscia di sangue, sull'Iran decido io, piano nato per Gaza, queste le parole del presidente israeliano Netanyahu. Non produciamo abbastanza armi, questo dice il Consiglio europeo. Sui migranti Meloni non convince Sayed dopo l'incontro a Tunisi della Basilicata, ma re se ci crede possiamo farcela. Andiamo ora alla prima pagina del quotidiano La Verità che apre con una notizia che non troviamo su altri giornali. Si parla di una querela, il Vescovo ci querela perché ai fedeli non piace che lui dia soldi a Casarini. Monsignor Castellucci vuole spillarci, dice la verità, 200 mila euro. La nostra colpa è aver raccontato dei finanziamenti fatti dalla sua diocesi alla ONG del Marxista No Global attingendo dalla cassa degli oboli e di aver provocato così il risentimento di qualche parrocchiano. Si parla dell'indagine sulle offerte usate per favorire l'immigrazione clandestina. scontro con Madrid sull'aborto la Premier Meloni siete ignoranti non dateci lezioni reprimono la libertà e poi gridano al fascismo metodo liberal questo è l'articolo a firma di Francesco Borgonovo la porno corruzione scuote le giunte rosse si allarga l'inchiesta nata a Bibiano oltre ai militari coinvolti numerosi dirigenti di municipalizzate dalla Toscana a Lombardia a Verona l'imprenditore Benedetti otteneva appalti infilando escort nei letti giusti dice la verità passiamo ora a dare un'occhiata alle notizie economiche del Sole 24 Ore si parla di criptovalute in apertura nuova vita per il bitcoin da domani emissioni dimezzate è la quarta volta che accade dal 2008 volatilità in arrivo possibili contraccolpi sui minatori che hanno costi più alti e poi il centro studi di Confindustria alza le stime PIL 2004 a più 0,9% energia rischio il PIL chiaramente del 2024 a più 0,9% energia rischio costi Biden i dazi sull'acciaio cinese vanno triplicati questo è l'argomento che riguarda le guerre commerciali e poi il FMI il debito pubblico mondiale salirà al 100% del PIL nel 2029 e ora le notizie sportive sulla gazzetta dello sport grande apertura sui quarti di finale di Europa League di questa sera Roma-Milan andrà impazzire belle di coppa quarti di Europa League dei rossi riparti dal 1-0 e si affida Di Bala Pioli si gioca il futuro Leao suona la carica poi si parla anche dell'Atalanta che all'andata ha sconfitto il Liverpool per 3-0 quindi Atalanta fa il bis il Liverpool va all'assalto il lupo non è così cattivo dice Gasperini ancora per il calcio ieri sera si è giocata il ritorno dei quarti di finale di Champions Real in semifinale dopo i calci di rigori 20 per 5 a 4 il Manchester City fa la partita ma spreca alla fine esulta Ancelotti il Bayern vince 1-0 Arsenal eliminato dunque anche i tedeschi in semifinale assieme al Borussia Dortmund al Paris Saint Germain e appunto al Real Madrid il giro al G7 Cairo la corsa rosa porta il Made in Italy nel mondo a Capri l'evento speciale con i ministri degli esseri prima di salutarci diamo un'occhiata al nostro palinsesto odierno alle ore 11 convegno Ance intelligenza artificiale pubblica amministrazione alle 12.30 teatro alle 14 prima edizione del nostro TG News alle 16.30 la sorgente studio 18.30 camminando Molise seconda edizione del notiziario alle 19.30 alle 21 non perdete l'appuntamento con Zona Sport condotto da Francesco Presutti ultima edizione del nostro telegiornale alle ore 23 è tutto per oggi con la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito arrivederci arrivederci a presto a presto brevi